Ernesto Bozzano. Chi era Ernesto Bozzano? Commento. Ernesto Bozzano, 1862-1943, parapsicologo fra i più famosi del suo tempo. La sua opera è oggi diffusa in particolare in America Latina, prima studioso enciclopedico e poi acuto ricercatore spirituale. Iniziatore della medianità scientifica e fondatore a Genova del Circolo Minerva per lo studio dei fenomeni paranormali, a cui parteciparono alcune tra le menti più brillanti della Genova di allora. Curatore delle storiche sedute di millesimo, 1927-1928, il cui strumento era il marchese Centurione Scotto. Bozzano si servì del metodo di ricerca chiamato analisi comparata e convergenza delle prove, ossia dello studio analitico della più vasta casistica mondiale, che confrontava i vari contatti con i piani superiori di esistenza per giungere alla causa primaria. Numerose le sue opere, tra cui La crisi della morte, dei fenomeni di bilocazione, dei fenomeni di infestazione, popoli primitivi e manifestazioni paranormali, da mente a mente, le visioni dei morenti, medianità poliglotta o xenoglossia, gli animali hanno un'anima, dei fenomeni di trasfigurazione, i morti ritornano. Come tutti i prodotti della mente, anche eccelsa, sembra che queste storiche indagini non siano arrivate a spiegare il perché della vita, come invece riesce a fare il mistico, che vive al di fuori della mente l'unione con il tutto.